Con sua Rangelica di Giacomo Puccini si chiude il cartellone del Città Sant'Angelo Music Festival per la stagione 2023-2024 all'interno del Teatro Comunale di Città Sant'Angelo, evento promosso dalla Fondazione Nicola Polidoro e dall'amministrazione comunale con la direzione artistica del maestro Alessandro Mazzocchetti. In scena sabato 4 maggio alle ore 21 con replica domenica 5 maggio alle ore 18 la nuova produzione operistica è stata messa in scena dal Città Sant'Angelo Music Festival con la regia di Manuel Renga e la direzione musicale dello stesso maestro Mazzocchetti. Siamo arrivati alla fine della stagione del Città Sant'Angelo Music Festival. Suor Angelica opera di Puccini, il motivo è innanzitutto un omaggio al compositore Giacomo Puccini muore nel 1924 quindi il centenario della scomparsa, Suor Angelica è un'opera del 1918 che è composta in un trittico insieme ad altre due opere che sono Gianni Schicchi e Tabarro e spesso si esegue o in dittico o in trittico appunto. Noi abbiamo deciso di estrapolarla, di prenderla singolarmente perché è un'opera dalle sonorità che ben si adattano alle sonorità del nostro teatro, la sentirete in una nuova versione da camera quindi per un organico ridotto dove però l'orchestrazione ha mantenuto tutti i colori del compositore. È un'opera fortemente drammatica che chiude un cortellone ricco e insieme a Manuel Renga, il regista, e Sara Rossini che è la protagonista, la appunto Suor Angelica, abbiamo cercato di lavorare in queste settimane cercando di creare un personaggio di Suor Angelica forte, un personaggio che abbia una propria identità e nonostante sia stata chiusa in un convento perché ha avuto un figlio prima del matrimonio comunque questi sette anni di convento le hanno fatto maturare un pensiero e quindi speriamo che possiate venire questo fine settimana in teatro a Città Sant'Angelo ad emozionarvi con uno dei drammi più belli di Puccini. Siete già al lavoro con la prossima stagione del Città Sant'Angelo Music Festival? Sì, ci sono già tante idee, la programmazione uscirà nei prossimi mesi, quest'anno possiamo ritenerci molto soddisfatti, abbiamo avuto un grandissimo successo di pubblico, abbiamo fatto 17 appuntamenti da dicembre fino appunto a maggio, quindi una grande stagione, molto ricca, molto varia e dobbiamo per questo ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto dal pubblico perché chiaramente questo si fa per le persone, si fa per il pubblico, per il tessuto sociale del teatro e tutte le istituzioni anche che ci sostengono sempre.